Grazie, Roma, Argentina. Anche la Juventus. Guarda, anche se viene bella, pigiama righe bianconene, se è bella, va bene. Insomma, una cosa ci unisce in questo bar. Non ce la volessero dire, pensa così in questo bar, ma non credo. Guardando le facce, a parte Paolo. Ma chi è che fuma al mentolo?